Ma continuo? Mir gefällt, und wahrscheinlich, mir gefallen diese zwei Hände, die aus dem Wasser rausragen. La scena di Carmen. Carmen, ah, si? Das ist die Scenografie von der Carmen. Vielen Dank. Il vostro timbro vocale insieme è un marchio di fabbrica, nel senso riconoscibile, nelle nostre orecchie, anche noi siamo italiani, quindi siamo cresciuti con... La forza e la dolcezza! Sì, esatto, è assolutamente complementare, sono due colori vocali complementari, come è nata, come avete scoperto, chiaramente al di là dei fattori, diciamo, umani, come avete... La forza e la forza, non erano trascosati, però io ho questa timbrica, è stata un po' un disco, ma io già ho fatto. Soll'è questa cosa? No, io avevo già inciso un disco a 14 anni, ma nessuno si è ne accorto. E poi ci siamo messi a scrivere le canzoni insieme. E poi ci siamo messi a scrivere le canzoni insieme. Io ho scritto un paio di canzoni bellissime italiane. E lei fa, si ma troppo italiane, che vuoi il cinese? Sì, sì. Tu italiani sei l'italiano. Però la canzone, che avevo il titolo Acqua di mare, è stata numero uno in Italia per un lungo tempo. E' stato il vostro... scusi, il vostro primo singolo quindi insieme? Ah, lei cantava da sua. Io le ho dato la mano in quella canzone. Penso che la parte finale è due o tre frasi. Dei vocalizzi... Era sua, era della sinistra. Era solo sua. Un'altra parte, che era tratto da Gisela D'Artini. Giochi privistiche. Giochi privisti. Un'alcissica, che era parlava. Un'alcissica, che era parlava, è stata in catalana. E stata in catalana... Romanzo. Un'alcissica, che è un'alcissica. Sì, ma con un testo però italiano. Il testo era italiano. Quindi questa reunion live che voi in questo periodo avete attuato per la gioia dei milioni di fans, avrà anche uno sfocio discografico, c'è un progetto di nuovi brani. C'è un disco, abbiamo un disco live uscito. Sì, magari di inediti, di nuove canzoni di Albano e Romina. Ma ci stiamo pensando. È un'idea. Perché il prossimo anno la mia intenzione è quella di chiudere, eventualmente inciderò, eventualmente... Diciamo con il live. Voi lo recuperate, perché come tante mazzate che il corpo mi ha presentato, è bene che prenda spunto da questi segnali per dire fermare...